Sabato 14 a Darfo, un appuntamento importante per tutti gli sportivi, soprattutto per gli sportivi che hanno qualche ricordo. Una partita vintage, l'avete chiamata così, con le vecchie glorie del Darfo e della Juventus. Vogliamo spiegare questa iniziativa? Sì, allora questa iniziativa è prima di tutto una partita di beneficenza. Si chiama per ricordare Davide e Andrea, che sono i due bambini purtroppo tristemente uccisi a Ono San Pietro dal padre. Raccogliamo i fondi per poter realizzare il sogno della mamma e dei nonni di realizzare un oratorio a Ono San Pietro, che è il paese proprio dei bambini, che possa diventare un punto di accoglienza per donne e bambini che subiscono queste violenze gravi in famiglia. La partita è allora vinta Nero Verdi-Darfo contro la Juventus di Remino. Juventus di Remino le abbiamo dato in nome perché Remino è lo storico massaggiatore della Juventus e è stata sua l'idea, insieme a Antonio Pedersoli, che è stato cantautore della Juventus in quegli anni, di realizzare questa partita. Perché quest'anno è il trentesimo anniversario dell'Eisel, per cui dalla vittoria della Coppa Campioni a maggio. Purtroppo tristemente noto anche lì per vicende tragiche. Però è trent'anni dalla vittoria di Tokyo e Remino ha compiuto i sessant'anni a maggio. Per cui questa serie di eventi ha voluto fare questa partita. Ci sono veramente nomi importanti, nomi di campioni, perché oggi confermati ufficialmente c'è Stefano Tacconi, Luciano Bodini, Triccella, Briaschi, Vignola, Galia. Per cui proprio la vera Juve che ha vinto nel mondo, oltre che in Italia. La Juve degli anni Ottanta che ha fatto sognare tutti i tifosi. La Juve di Platini era conosciuta soprattutto per lui. Esatto, Platini. Non abbiamo usato a chiamare Platini perché ormai è impegnato in ben altri incarichi. Però ecco abbiamo avuto un grande riscontro e la cosa che mi ha colpito perché li ho chiamati io personalmente e tutti questi giocatori, ho chiamato 57 giocatori della Juventus, dai Cabrini, Brio, tutti hanno un ricordo meraviglioso nel cuore di Valerio Remino perché ha lasciato veramente un segno nella memoria di tutti questi giocatori.